Sarebbe inciampato mentre scaricava il camion, cadendo rovinosamente a terra, procurandosi diversi traumi e ferite. Una volta che è stato trasportato in pronto soccorso ha fatto la mara scoperta. Il tampone svolto per prassi dei sanitari ha dato esito positivo, oltre il danno la beffa non solo l'incidente sul lavoro ma anche il contagio da coronavirus. Protagonista della vicenda è un 61enne residente in Valle Pelini, attualmente degente nell'ospedale San Salvatore dell'Aquila. Da quanto si è appreso l'imprenditore, titolare di una ditta, sarebbe caduto dal cassone di un camion mentre stava lavorando, fino a rimediare un trauma cranico, ferite al braccio e lussazione alla spalla per una proniosi complessiva di 30 giorni. Si è reso quindi necessario l'intervento sul posto della Croce Verde di Prato La Peligna, che lo ha trasportato presso il pronto soccorso del nosocomio cittadino per sottoporsi alle cure del caso, cui il 61enne, già scosso per l'incidente sul lavoro, ha scoperto di aver contratto il covid. La diagnosi dei sanitari, i successivi accertamenti hanno portato al trasferimento presso l'ospedale Aquilano, una fatalità nella disavventura che fortunatamente si può raccontare. All'uomo che dovrà affrontare gli strascichi del virus e dell'infortunio vanno i nostri migliori auguri di pronta guarigione.